No alla consegna da parte dei comuni degli impianti idrici a lato, sindaci e amministratori egrigentini hanno protestato a Palma di Montechiaro contro la privatizzazione dell'acqua. Altri vertici e manifestazioni sono previsti nei prossimi giorni nelle province dell'isola per sostenere la stessa scelta. Gli amministratori chiedono la concretizzazione delle norme sulla gestione comunale degli impianti idrici. Il sindaco di Bivona, Giovanni Panepinto. Noi riproponiamo la questione nei prossimi giorni al Governo nazionale perché si possa chiudere finalmente una questione che vede danneggiati solo i cittadini agrigentini e siciliani. Il sindaco di Cianciana, Salvatore Sanzeri. Ci siamo dei sindaci, molti, che riteniamo che l'acqua non può essere che pubblica. Ci sono iniziative di proposte di legge all'Assemblea su richiesta dei consigli comunali e dei cittadini per fare sì che questo avvenga. Grazie.